Allora Fede, buon pomeriggio. Ciao Fede. Ciao, 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 buon pomeriggio a voi. Allora, mi raccomando, scalda l'ugola, se vuoi prenditi anche un bel bicchiere d'acqua prima di iniziare perché dobbiamo riempirti di domande. Ti vedo carico, lo so. Allora guarda... Sì, sì, ho fatto tutto che scaldamento, vai pure. Hai fatto già il scaldamento, sei pronto ad entrare, siamo pronti ad alzare la lavagnetta luminosa. Allora, Fede, spingiamo su Zaniolo perché abbiamo sentito i colleghi di Roma che ci hanno dato un po' il quadro dell'ambiente che c'è in questo momento intorno a Zaniolo. Noi magari da te vogliamo qualche cifra in più e se c'è effettivamente una squadra che in questo momento può prendere Zaniolo o vuole prendere Zaniolo. Te ne dico due, Tottenham e West Ham. Se dobbiamo dire due squadre che in questo momento possono e vogliono prendere Zaniolo sono queste due e non è casuale la missione dell'agente di Zaniolo Vigorelli a Londra. Sentivo le parole del collega Di Carlo e effettivamente il nodo sta proprio sulla formula con la quale si sono fatte avanti finora le pretendenti. Non un'offerta concreta ma a sondaggi, possiamo dire, manifestazioni di interesse. Se la Roma vuole incassare almeno 40-45 milioni di euro dalla cessione di Zaniolo e vuole farlo a titolo definitivo, in questo momento i club interessati non si spingono oltre i 30 di valutazione complessiva e soprattutto non mettono sul piatto altro che prestito con diritto di riscatto e sappiamo che questa è una formula che la Roma non intende minimamente ascoltare. Tra Tottenham e West Ham in questo momento sono più gli Ammers paradossalmente ad aver dato l'apertura a inserire un obbligo di riscatto tra un anno per Zaniolo, ma non ci siamo ancora a livello di cifra appunto perché al massimo si arriva a 5 di prestito più 25 per il riscatto, quindi c'è ancora da lavorare. È chiaro che il tempo stringe, l'intenzione della Roma è di non trascinare la vicenda fino agli ultimissimi giorni del mercato perché a quel punto non ci sarebbero più margini per pensare di fare qualcosa per sostituire eventualmente Zaniolo o quantomeno reinvestire il budget. Quindi decisivo, pensiamo che possa già essere questo weekend appunto questo blitz a Londra di Vigorelli. Sentivo poi un altro commento molto giusto sul rendimento di Zaniolo e su quelle parole di Mourinho. In questo momento Zaniolo non è nulla di più, ecco, restando a Londra, guardiamo l'esempio di Kuluseski, perché Kuluseski era un giocatore alla Juventus, è diventato un altro tipo di giocatore al Tottenham. L'idea di Zaniolo in questo momento è che cambiando aria, cambiando appunto modo di lavorare, possa riuscire ad avere quel salto di qualità che in questo momento con Mourinho in giallo-rosso non riesce ad avere. Chiaro. Esatto, perché c'è Spezia Roma, intanto rimaniamo sempre tra Premier e Serie A in uscita, quindi non ci allozioniamo molto. Succede tutta Londra, tutta Londra succede. No, allora non sappiamo se Zaniolo ci sarà o meno per Spezia Roma, ma quello che possiamo dire è che non ci sarà di sicuro Jakob Kivior, perché ormai è stato raggiunto l'accordo tra lo Spezia e l'Arsenal per la cessione del difensore polacco. Un affare molto importante, perché parliamo di 20 milioni di sterline, quindi al cambio circa 25 milioni di euro che entrano nelle tasche dello Spezia, con il giocatore che tra domani e dopo sarà a Londra per perfezionare poi quello che è tutto l'iter burocratico standard delle trattative, quindi visite mediche, firma del contratto per i prossimi cinque anni con i Gunners. Ecco, diciamo che l'Arsenal si sta rivitalizzando dopo le due batoste prese sul mercato dai rivali del Chelsea, perché dopo aver perso Giofelix, dopo aver perso Mudrik, l'Arsenal si sta rialzando e ha piazzato nel giro di 24-48 ore due colpi importanti. Prima Trossard, perché non dimentichiamo che prima di chiudere Kivui, ora l'Arsenal ha raggiunto l'accordo con il Brighton per l'esterno belga, che era in rotta totale con De Zerbi, 31 milioni di euro circa nelle casse dei Seagulls. 31 più 25 nelle casse dello Spezia fanno 56 milioni di euro in due giorni. Non siamo ai livelli del Chelsea, ma cominciano ad essere degli investimenti importanti. Lo Spezia in questo momento sta lavorando su quello che potrebbe essere il successore di Kivui e sta cercando di farlo in tempi più rapidi di quello che aveva preventivato, perché nei piani dei Liguri l'accessione di Kivui sarebbe arrivata solo al termine della stagione a salvezza ottenuta, magari con la prospettiva di alzare anche un'asta internazionale, perché non dimentichiamo che oltre all'Arsenal sul Polacco c'era la Juventus, c'era il Milan, perché i bianconeri e i rossoneri hanno mandato più volte i loro scout al picco a seguire le prestazioni di Kivui. Ora questa cessione costringe chiaramente ad accelerare i piani, ci sono diversi nomi, un Evisnevski che potrebbe diventare un'occasione nelle prossime ore. Ve lo racconteremo su calciomercato.com. In questo momento la notizia che dobbiamo dare è che Kivui saluta la Serie A, con dolore anche di fantallenatori che ci avevano puntato sopra e che dovranno inevitabilmente sostituirlo. Federico, a proposito di difensori, di giocatori che potrebbero lasciare a breve la Serie A o nei prossimi mesi, l'Equipe rilancia la notizia di un accordo fra Skriniar e il Paris Saint-Germain. Inoltre questo si aggiunge alla notizia di un rinnovo rifiutato probabilmente da Milan-Skriniar. Quanto c'è di vero? Chiariscici le idee. Tra l'altro la deadline in teoria nella testa dell'Inter era oggi? Era il 20 gennaio, giusto? Sì. Era il 15 anche inizialmente. Poi era stata rimandata più volte, sì. Chiaro che ne parleremo tra poco diffusamente sul sito con il nostro Pasquale Guardo, però è chiaro che in questo momento questi continui delay dell'ultimatum fanno capire come si sia provato a rilacciare qualcosa che si stava ormai sfilacciando del tutto. Quindi il rinnovo di Skriniar in questo momento è estremamente complicato, anzi possiamo dire che si fa verso il no. Come sono veri invece il riallacciarsi dei rapporti con il Paris Saint Germain. Non possiamo dire ripresi i contatti perché non si sono mai chiusi tra i parigini e il difensore slovacco. Sul fatto che ci sia un accordo in realtà c'è da lavorare tra Skriniar e il Paris Saint Germain perché ci sono ancora delle distanze importanti, non tanto per l'ingaggio, perché siamo sui 9 milioni, 9 milioni e mezzo più bonus a stagione e su questo punto di vista le parti sono abbastanza concordi. Il problema riguarda altre spese, quelle magari per il bonus alla firma, perché il giocatore pretende un bonus alla firma importante, in questo senso riprendiamo un'indiscrezione rilanciata dai colleghi anche di RTL in Francia, parliamo di 25 milioni di euro, una cifra molto importante come bonus alla firma e proprio questo sta diventando un po' il nodo dell'affare. E' chiaro che sono tutte indicazioni che ci portano verso una direzione. Il futuro di Skriniar è lontano dall'Inter e non ci sorprende che i nerazzurri si stiano già muovendo per disegnare la difesa del futuro con Giorgio Scalvini dell'Atalanta, lo raccontiamo da diverse settimane, come primo obiettivo assoluto per l'estate. Prima di passare al Milan, restano sull'Inter, invece Brozovic che sì, perché poi un giorno se ne parla, un giorno no, ci sono novità, è una cosa che è stata messa in piedi dal Barcellona, giusto? E' un'idea che è nata da Barcellona, non è nata sicuramente a Milano, ma è un'idea che trova sponda da diversi punti di vista, tecnici e finanziari. E' un'operazione che avrebbe senso per entrambe le squadre, dal punto di vista tecnico perché l'Inter ha trovato in Cialanoglu una risorsa diversa e molto efficace davanti alla difesa e ora ha bisogno paradossalmente di rimpolpare la batteria delle mezzali, quindi di mettere intensità, di mettere muscoli, che sì, in questo senso ha fatto vedere in Italia di essere tra i primi della fila sotto questo punto di vista. Il Barcellona di contro non si trova con lo stile di gioco di Livoriano e non stupisce che abbia avuto fin qui poco spazio, nonostante l'expload delle ultime uscite tra campionato e Coppa e i gol realizzati. Brozovic è un giocatore più affine alle idee di gioco di Xavi, ma anche dal punto di vista economico è una cosa da non sottovalutare. Brozovic o è mai un giocatore quasi completamente ammortato a bilancio da parte dell'Inter, mentre che sì, lo ricordiamo, è arrivato a parametro zero. Quindi si tratterebbe, in caso di scambio, di un'operazione che potrebbe fare bene dal punto di vista della plusvalenza a entrambe le società e ricordiamo che entrambe, per un motivo o per l'altro, hanno bisogno di chiudere delle plusvalenze entro la chiusura del bilancio, quindi entro il 30 di giugno. Da qui a dire che ci siano stati sviluppi concreti nella trattativa, ne passa. È in programma un nuovo incontro tra la gente di Chessy e la società blaugrana per fare il punto della situazione nei prossimi giorni e da quello si potrà capire ulteriormente se ci siano margini di manovra in questo senso. Per il momento la dobbiamo ottenere in quella categoria. È un'idea nata da Barcellona, l'Inter finora non ha mostrato particolare calore, ma non si è neanche tirata indietro. Quindi vedremo se le condizioni favorevoli per entrambi le squadre riusciranno a sbloccare definitivamente, a farla diventare da un'idea a un'ipotesi di lavoro concreta. Chiaro. In Milan invece il discorso è sempre relativo a Leao, perché sono giorni un po' più freddi? Ma dobbiamo spiegarlo, perché oggi era stata indicata come la giornata dell'incontro, possiamo chiamarla anche un incontro verità, tra il Milan e la gente del giocatore Teddi Mbola, in realtà bisogna fare chiarezza su questo punto, perché da parte dell'entourage era filtrato che quello di oggi potesse essere un giorno buono, ma non ci sono mai state delle conferme dirette sul fatto che ci sarebbe stato effettivamente un faccia a faccia tra le parti. Quello che ci risulta in realtà è che nonostante la presenza della gente in Italia, i contatti stiano proseguendo, ma in forma telematica, anche perché non è intaccata la fiducia del Milan, e questo è bene ricordarlo, è una fiducia che si basa principalmente sul fatto che si siano avvicinate le parti dal punto di vista economico, sull'ingaggio, parliamo di un'offerta da 7 milioni di euro, bonus compresi annui per il giocatore, e quindi lo metterebbe di gran lunga avanti rispetto ai compagni come giocatore più pagato della Rosa, e si fa leva anche sulla forte volontà di layout, di proseguire l'avventura in rosso-nero, almeno per il momento, e proprio il giocatore lo ha detto anche pubblicamente a più riprese di voler continuare a Milano, quindi la fiducia del Milan resta. Il problema è che in questa operazione ci sono due nodi che resistono da diverso tempo e che non sono ancora stati superati, riguardano principalmente le commissioni e la clausola rescissoria. Le commissioni ruotano al fatto che il Milan non intende pagarle due volte, e questo è proprio un nodo della trattativa, perché la procura di Leao è in mano a Ted Dinvula, avvocato che di recente ha chiuso anche altre operazioni con il Milan, ma il padre di Rafa, Antonio, continua ad affidarsi ai consigli di Jorge Mendez, che sappiamo essere un procuratore al di là, molto potente per la sua storia nel calcio globale, anche in rapporti molto buoni con la società rosso-nera. Il Milan prima vuole dirimere questo nodo sulla procura. Il secondo ostacolo, l'abbiamo detto, riguarda la clausola rescissoria, che abbiamo raccontato noi di calciomercato.com in esclusiva, per primi da 150 milioni di euro nel contratto di Leao. E qui divergono le idee delle parti. Il Milan vorrebbe inserire anche nel nuovo accordo una nuova clausola rescissoria, pari o addirittura superiore a questa. Dall'altra parte l'entourage del portoghese spinge per eliminarla o quantomeno abbassarla, ma capiamo che abbassare la richiesta di abbassare la clausola rescissoria può anche essere percepita come un tentativo di favorire un trasferimento a stretto giro di posta a delle condizioni più vantaggiose per l'acquirente. Quindi è una partita aperta e si gioca principalmente su questi due punti. Quindi niente incontro di persona oggi, ma i contatti vanno avanti. l'intenzione del Milan è comunque di cercare di stringere di arrivare alla fumata bianca il prima possibile e cercare di dare soprattutto a questa storia un epilogo diverso rispetto ad altre due trattative per i nuovi che non si sono concluse positivamente negli ultimi anni, che sì, e Donnarumma sono ancora due ferite aperte per i tifosi del Milan. Federico, abbiamo iniziato e aperto parlando di Roma, siamo passati a Milano ed Inter, direi per par condicio, di dire qualcosa anche anche sull'altra squadra della capitale. La Lazio, oltre alle domande che arriveranno e arrivano dalla chat, ti chiedo qualcosa sul vice immobile, che è una figura un po' mitologica. Dopo la partenza di Caicedo, la Lazio ha avuto grosse difficoltà. Sono quattro anni che si cerca un vice immobile, ma non lo si trova. La ricerca del vice immobile, forse è essa stessa il vice immobile. Beh, effettivamente sì, effettivamente è una bella analogia. La verità è che ne hanno cercati tanti i bianco celesti di vice immobile negli ultimi anni. Forse quello che ci è andato più vicino a livello di trattative è stato Caputo, un'operazione che poi non si è conclusa per vari motivi. Ora i bianco celesti si sono resi conto comunque di non poter pensare di proseguire per un'altra stagione, un'altra metà di stagione, ma anche la prossima, senza una vera alternativa al bombardamento nazionale. Nonostante Sarri abbia comunque trovato degli accorregimenti tampone funzionanti come Pedro Falsonove o Felipe Anderson Falsonove, le idee non mancano. E una è tornata particolarmente in auge nelle ultime ore, quella di Mariano Diaz, che è un esubero ormai da diversi anni a Real Madrid e non riesce la società madrilena a liberarsene. La Lazio ci sta pensando, ma deve fare sempre i conti con due problemi essenziali. Il primo è dato dall'indice di liquidità che deve rispettare la società bianco celeste, che negli ultimi anni è stato un po' il no principale a tante operazioni. Quindi per poter pensare di arrivare a un vice immobile la Lazio deve anche concludere determinate uscite e liberare dello spazio per poter perfezionare l'entrata. Il secondo nodo è dato dall'ingaggio di Mariano Diaz. Per uno si chiede perché Mariano Diaz è rimasto, passatemi il termine, sul groppone del Real Madrid per tutti questi anni, nonostante sia più che un esubero. Perché è un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione ed è un ingaggio che è fuori portata per tanti dei club che lo hanno approcciato negli ultimi anni. Per la Lazio non è fuori portata, ma sicuramente è un problema, perché in questo momento è il più pagato in rosa, Emilinkovic Savic con 4 milioni e non si può superare questa soglia per il vice immobile indubbiamente. Quindi la Lazio deve lavorare anche sotto questo aspetto. Quindi la caccia al vice immobile prosegue, Mariano Diaz torna ad essere una moda con tutti questi limiti che abbiamo detto e che penalizzano tanto le possibilità di trattativa. Un grande classico, non di Natale, ma nel mese di gennaio sicuramente. Mariano Diaz è accostato alla Serie A. Federico, grazie mille, grazie mille per il punto sulle trattative. Effettivamente non hai avuto bisogno delle bicchiere d'acqua, sei andato liscio. Grande preparazione atletica. Vado a bere adesso un litro d'acqua di fila per riprendermi. Va bene. Grazie. Ciao Federico. Grazie.